Ciao, come avete visto nei commenti all'altro editoriale, quello di giugno, l'editoriale è valido anche per i mesi prossimi. Infatti nell'editoriale si è fatta una ricapitolazione di quelle che saranno le uscite future di Inside the staircase, perciò potete guardare serenamente l'editoriale di giugno e farvi un'idea di quello che vedrete nei prossimi mesi, nelle prossime uscite della rivista mensile. Tuttavia mi è venuto in mente che l'editoriale di giugno è in inglese e quindi vorrei evitare l'effetto desolazione in tutti coloro che non conoscono l'inglese e mi sembra anche giusto continuare ad accompagnare le uscite con una rubrica video, con un mio commento. Voglio parlarvi oggi del quadro che forse riuscite a vedere nello schermo dietro di me, è un Raffaello e il Drago di Raffaello Sanzio. Ci sono più versioni, questa è quella conservata a Washington, alla Galleria d'Arte di Washington in America ed è la mia preferita rispetto all'altra che invece si trova al Louvre. La preferenza è per così dire semplicemente di genere affettivo. Infatti colgo l'occasione e vi racconto un aneddoto. Questo quadro è stato il primo quadro che ho visto di Raffaello nella mia vita e nel guardarlo mi chiedevo di chi fosse. Abbiamo parlato di queste mescolanze di Raffaello e quindi anche del fatto che si possono riconoscere in lui dei tratti che in realtà appartengono ad altri pittori. Abbiamo visto nel post si è parlato sia di Pier della Francesca per quanto riguarda la composizione, sia di Michelangelo, suo contemporaneo per quanto riguarda la plasticità dei corpi e anche dei tessuti. Bellissimo in questo San Giorgio e il Drago del 1506 il mantello di San Giorgio che svolazza in alto e quindi vediamo che Raffaello è riuscito a accogliere il Giorgio nel mentre in cui ha questo moto di uccisione, di assassino nei confronti del Drago e perciò è preso in questo momento di grande movimento. Perciò il mantello segue il movimento del corpo alzandosi in aria quasi forse anche ispirato da forse anche un aiuto divino si potrebbe arrivare fino a considerare questa cosa. E appunto io mi chiedevo di chi fosse questo Raffaello e ho scoperto appunto che non si trattava della mano di Michelangelo, non si trattava della mano di altri se non quella di questo meraviglioso pittore di origini marchigiane che è Raffaello Sanzio e di cui si è detto nel posto di approfondimento è estremamente innovativo, estremamente bravo per quanto riguarda i ritratti. Nel posto sono stati presentati ritratti di donne per lo più, o meglio c'è la presentazione di alcune madonne e poi di un ritratto femminile, ma era molto bravo anche per quanto riguarda i ritratti maschili. Per il resto vi faccio notare come esiste anche un altro tipo di cavaliere che uccide il drago. In quest'altro caso si tratterebbe di San Michele. La differenza fra i due, che sono entrambi i due che sono ritratti nel momento di uccidere un drago, che poi è simbologia per il maligno, per probabilmente una bestia satanica. Ecco, il San Giorgio è vestito con un'armatura da cavaliere, mentre invece il San Michele no. Il San Giorgio è stato, è considerato una figura storica, poi santificata, dovrebbe essere vissuto nel terzo secolo dopo Cristo e probabilmente era un militare nell'esercito di Diocleziano. Quando poi ci fu una persecuzione nei confronti dei cristiani, lui si palesò come cristiano e quindi venne poi martirizzato. Questo dipinto ha una storia particolare, quello a Washington, per il fatto che probabilmente fu donato, comunque realizzato per Enrico VII d'Inghilterra e che quindi fu, diciamo, ci sarebbe un riferimento all'ordine della giarrettiera a cui sarebbe stato dato merito a Raffaello. Per questo editoriale è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.